Siamo a Sanremo, Radio Bruno E diamo il benvenuto nella nostra postazione I Sent Motel, hi guys, how are you? Come state? Stanno bene? Molto bene, sì Benvenuti a Sanremo, benvenuti a Radio Bruno Grazie per averci, siamo felici di essere qui Sono felicissimi di essere qui So guys, you rock on stage, a huge performance Avete spaccato di brutto sul palco una performance bellissima And your sound to Italian audience Italian audience love a lot your sound Il pubblico italiano li ha accolti molto bene e adorano il loro suono How many years you play together? Da quanti anni voi suonate insieme? Well, we put out our first EP in 2009 Nel 2009 loro hanno iniziato a suonare insieme In questa scuola Movie School Esatto Una scuola di cinema Yeah, so we've known each other for a long time Ci conosciamo da un sacco di tempo Long enough to become intimate with each other's musical quirks So we know each other very well We gel Si conoscono molto bene proprio perché comunque sono amici Hanno convissuto tanti momenti belli Happiness moment and sad moment Yes, we get it all Friendship L'amicizia Ok So your sound came from the 70s sound, you know, for us Insomma il vostro suono proviene anche comunque dalla sonorità degli anni 70 We tend to have a lot of different elements in our music Cerchiamo come sempre di definire al meglio la nostra musica We like to find inspiration in a lot of different things A lot of different instruments, a lot of different genres, a lot of different time periods We enjoy that Cerchiamo di trovare l'ispirazione da diverse cose, diversi momenti di vita, diversi suoni, di diverse cronologie tempistiche Gli anni 70, 80, 90, insomma And then mix up, mix up and came out your work Quindi lo mescolate e viene fuori il vostro bellissimo lavoro Right, it goes in and then comes out to Sam Motel È come appunto se confluissero e insieme viene fuori appunto il lavoro del Sam Motel So you played very soon, you are going playing very soon on Modena, Vox Non Antola Suonerete al Vox di Non Antola prestissimo Si, in marzo, in marzo In marzo Ok, il 30 di marzo se non ho capito male Perché insomma abbiamo diversi suoni, siete in tanti Allora, so what's going on on stage on Vox Non Antola? Che cosa succederà sul palco? Your show? Well you'll have to come and see Dovete venire a vederlo Perché sarà una sorpresa naturalmente So you love, I heard that you love a lot Raffaella Carrà Adorano Raffaella Carrà Avete, you made a sort of homage, honor for her Un omaggio per loro hanno fatto We did, we got to meet her, we had the pleasure of meeting her L'hanno fatto e hanno avuto l'onore di conoscerla a Roma Yeah, she's fantastic È fantastica Yeah, we're very excited to see her again on Monday E quindi sono molto, molto contenta e emozionata di rivederla lunedì On Monday on TV On TV show? Nel programma suo, quindi televisivo Abbiamo in anteprima che saranno forte, forte, forte Sì Ok, ok And what about Sanremo, the atmosphere? You know Sanremo before? Conoscevate Sanremo prima? Come vi sembra l'atmosfera? We'd never been here Non sono mai stati qui? We'd never been, we landed in Nice and then we drove over to San Remo And the entire drive, the sun was setting and it was just beautiful Like massive mountainous, you know, and then you have the ocean and it's just, it's beautiful Loro sono arrivati a Nizza, poi sono arrivati qui a Sanremo E sempre hanno visto questo meraviglioso sole, questo mare, questa spiaggia Poi proprio sulla strada tra Nizza e Sanremo Just a little bit of danger mix with beauty, which is what we love We love danger and beauty put it out there Ah, ok Loro adorano le strade vicino proprio poi ai dirupi, cioè insomma queste strade della costiera Quindi sono rimasti decisamente affascinati And then Sanremo, you came, you are going to come back to LA, to USA Dopo questa tappa dove ritornerete? A Los Angeles, negli Stati Uniti? No, so we go on tour in Europe for the next five weeks Andranno appunto in tour la settimana scorsa, la prossima in Europa And then we end the tour back in Italy So we go all the way around Quindi iniziano il tour in Europa e lo finiranno, termineranno proprio in Italia It's a nice bookend E quindi è bellissimo proprio l'inizio e la fine iniziare da qui e terminare naturalmente in Italia So guys, thank you, thank you so much Grazie mille ragazzi Could you say hi to the audience on Radio Bruno? Si, ciao Radio Bruno! Ciao! Radio Bruno! Ciao!